Buonasera a tutti, Fabrizio volevo consegnarti questa targa a nome di loro, a nome nostro e di tutto il comitato festeggiamenti di Casavulla. E volevo farti un imbocca al lupo per tutta la tua carriera. Leggo questa targa a Fabrizio Moro un ringraziamento per la partecipazione con l'augurio di una lunga carriera artistica. Il comitato festeggiamenti San Delpidio Vesco, Casavulla Casetta. E infine Fabrizio volevo fare un saluto al parroco che ha conosciuto oggi in chiesa, la donna Andrea Monaco e il suo vice donna Luigi Dolici. Grazie Fabrizio, buon proseguimento. Grazie ragazzi, grazie al comitato che mi ha invitato, grazie per questa banca, grazie per questa bellissima serata. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi del posto, grazie ai ragazzi che vengono da fuori, si fanno tanti cronoli per assistere ai nostri concetti. Quindi grazie a voi sempre, lo aspetterò mai. A voi che rendete speciale tutto quello che facciamo, grazie.